Un cordiale saluto dalla redazione di Florence TV, in studio Leonardo Bardazzi. Per il momento il traffico scorre regolare in FIPILI e in tutta la rete autostradale toscana. Sulla FIPILI restringimento di carreggiata nel tratto tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina per lavori in corso, possibili disagi per la viabilità. In A1 per lavori in direzione Bologna corsie interne chiuse tra Firenze Sud e Firenze Scandici. Sulla Firenze Siena scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 Firenze Improneta in direzione Firenze. Sulla statale Tre Bistiberina per lavori sono chiusi gli svincoli Valsa Mignone e Sansepolcro Sud in direzione Ravenna e Pieve Santo Stefano Nord in direzione Orte. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!